Un miliardo e 46 milioni di euro da investire nella comunicazione, nello spettacolo, nelle arti audiovisive e cinematografiche. Tutto questo rientra nell'ambito di Europa Creativa, un programma europeo rivolto agli esperti di comunicazione che operano nel settore dei media e della cultura. Europa Creativa è un programma quadro che finanzia progetti di cooperazione tra associazioni culturali, promuove traduzioni di opere letterarie, potenziando lo sviluppo e la creazione di film, documentari e videogiochi. Per far conoscere le opportunità del progetto sono arrivati a Campobasso i responsabili del programma, che durante un convegno si sono rivolti agli esperti molisani del settore. Europa Creativa è il programma tematico gestito dalla Commissione europea, che è rivolto agli operatori del settore culturale, creativo, audiovisivo e del cinema. È un programma, come dicevo, settoriale, gestito direttamente dalla Commissione europea, quindi non c'è un'intermediazione da parte delle regioni. Per questo motivo esistono dei punti di contatto nazionale, sia in Italia che anche negli altri paesi europei, per promuovere il programma e favorire la conoscenza dei contenuti del programma stesso. Europa Creativa si divide in due sottoprogrammi, sono cultura e media. Il sottoprogramma cultura è rivolto agli operatori culturali, pensiamo a chi opera nel settore della musica, del teatro, della danza e quant'altro, mentre il programma media è rivolto agli operatori dell'audiovisivo e al cinema. Questo è un programma che si rinnova ogni sette anni. Quali sono le novità di questa edizione? Oltre al bando Audience Development, che è stato introdotto con questa nuova programmazione, c'è da dire che questa tematica è trasversale a tutto il programma Europa Creativa. Fa parte di media, è stato creato un bando ad hoc, ma l'audience development sarà una tematica trasversale a tutto il programma Europa Creativa in generale. Grazie a tutti.